è fantastico, fantastico Sers devi farmi Sers, tu lo vieni davanti che ti aspetta eccolo qua saranno famosi ma che personaggio grandissimo che anno mettete fuori? chi è? oh per cari di odio ti avevi altri cosetti? no per cari di odio hai due cosetti da mangiare è che sei la soppressa quasi io no sei più macchina sei più macchina